Attraverso la dashboard di Ranking Coach puoi monitorare tutti i tuoi rapporti dall'omonima sezione, raggiungibile nel menu di sinistra. I rapporti sono suddivisi in categorie, motori di ricerca e web analytics. La scada rapporti sui motori di ricerca ti fornisce rapporti sulla parte più importante del tuo sito web e il posizionamento delle parole chiave. Un menu a tendina in alto a destra di ogni rapporto ti dà la possibilità di scegliere se vuoi statistiche nazionali o locali. La prima tabella dei tuoi rapporti SEO ti dà una panoramica delle posizioni delle tue parole chiave nel periodo di tempo impostato. Oggi, la settimana scorsa e il mese scorso. Questo ti permette una rapida panoramica dei tuoi progressi, così come ti dà una visione del volume di ricerca per la parola chiave specifica e come è cambiato nel tempo. Cliccando sulle parole chiave otterrai l'accesso a una schermata con una panoramica dello snippet del tuo sito web nelle pagine dei risultati di Google, così come i dati relativi al potenziale della parola chiave come il volume di ricerca, i risultati su Google, il costo per click di Google Ads. La seconda tabella ti dà una panoramica delle tue classifiche giornaliere negli ultimi 30 giorni. Il terzo grafico ti permette di confrontare le tue classifiche con quelle dei tuoi concorrenti e, per concludere, la scheda rapporti di Web Analytics. Collegando il tuo Google Analytics con Ranking Coach ottieni ancora approfondimenti sul tuo account e il traffico sul tuo sito web in una visione più semplificata. I rapporti contengono una panoramica del numero di visitatori sul tuo sito web negli ultimi giorni, settimane o mesi, a seconda della vista che scegli.